Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Tionic 600R. A cosa serve? Tionic 600R ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda Bionne Farm SRLCR. Informazioni commerciali. Titolare. Bionne Farm SRLCR. Concessionario. Bionne Farm SRLCR. Categoria di appartenenza. Integratori di vitamine e minerali. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Tionic 600R30 compresse. Indicazioni. Tionic 600Retard a un integratore alimentare in compresse rivestite a rilascio prolungato a base di acido alfa-lipoico e vitamine utili nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fa bisogno di tali nutrienti. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di uno compress al giorno. Descrizione e caratteristiche. L'acido lipoico, detto anche acido tioctico o acido alfa-lipoico, ha un componente vitale del processo di produzione dell'energia e un grande antiossidante. La sua importanza è legata a molti aspetti e condizioni di salute e può anche contribuire ad accelerare le capacità terapeutiche della vitamina C ed E, cosa come del glutatione che ha un elemento coinvolto nei processi di guarigione. Il ruolo dell'acido alfa-lipoico risiede quindi nella sua attività antiossidante in grado di interferire sia con le reazioni ossidative che di ridurre le forme ossidate derivanti da altri fattori. Tra le sue caratteristiche è interessante segnalare che l'acido alfa-lipoico assolubile sia in acqua che nei grassi, caratteristica che lo rende unico tra gli antiossidanti. Numerosi studi clinici hanno dimostrato l'efficacia dell'acido alfa-lipoico nel migliorare i parametri di conduzione del segnale dei nervi periferici coinvolti nelle neuropatie, con incremento della funzione nervosa. Altri studi ne hanno dimostrato l'efficacia in pazienti con neuropatie periferiche, nei quali ha migliorato in maniera significativa la sintomatologia dolorosa. Vitamina PP, niecina, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Vitamina B5, acido pantotenico, A è utile alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori. Favorisce prestazioni mentali normali. Vitamina B6 sostiene il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno. Contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi. Vitamina B12 è utile alla normale funzione del sistema immunitario. Interviene nel processo di divisione delle cellule. Vitamina B2 favorisce il mantenimento della capacità visiva normale. Sostiene il normale metabolismo del ferro. A è utile alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Vitamina B1 contribuisce alla normale funzione cardiaca. Acido folico sostiene la normale emopoiesi. Biotina, vitamina B1, vitamina PP, niecina, vitamina B6 e vitamina B12 contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica. Avvertenze. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso un'opia ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso dall'otto all'otto. Cianun inficia la qualità del prodotto. Se si ha in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti, prima dell'eventuale uso del prodotto, consultare il medico. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili. Il prodotto contiene ingredienti sensibili al calore. Si raccomanda quindi di evitare l'esposizione a sbalzi termici e di conservarlo a temperatura compresa tra 4A e 18A gradi in un luogo asciutto, su R50%. Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate e dai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.